Ma l'olismo platonico non è l'unico peccato filosofico che conduce al totalitarismo. Infatti, Popper continua la sua disamina puntando il dito contro Hegel e Marx. Ai suoi occhi, entrambi questi filosofi sono colpevoli di storicismo. In parole povere, colpevoli di aver promulgato l'idea che la storia è governata da certe leggi e principi che la guidano verso un esito necessario e inevitabile. Così, sia la dialettica hegeliana che il materialismo storico di Marx propongono l'idea che, con la giusta chiave di interpretazione, sia possibile formulare una legge dello sviluppo storico che permetta di analizzare e predire il suo progresso.